Allora, riprendiamo... parliamo di eventi che ci servono, se no non chiediamo più. Allora, abbiamo già detto, javascript usa questo modello a eventi, gli eventi sono delle azioni che si verificano in maniera sincrona rispetto all'esecuzione del codice javascript e che fanno sì che il codice javascript collegato a quell'evento, che noi avremo preventivamente collegato a quell'evento, venga messo nella coda delle callback e prima o poi venga eseguito. Ok? Quindi, ci sono, diciamo, gli eventi, anzi scusate, gli eventi si determinano... quando questi eventi nascono, nascono collegati a un certo elemento nell'html, no? Vedremo... il click, vabbè, l'esempio più semplice, ho cliccato su qualcosa, c'è un certo elemento html che ho cliccato. E poi, ovviamente, ci sono eventi di diverso tipo, cioè, appunto, click, doppio click, ho spostato il mouse, ho scritto qualcosa con la tastiera e così via. Quindi, ci sono fondamentalmente due elementi che caratterizzano l'evento, no? L'elemento che ha generato l'evento, l'elemento nell'html, che tra l'altro si chiama event target, vedete che abbiamo messo source con la riga, nel senso che sarebbe logico chiamarlo la sorgente dell'evento, però si chiama target e lo troveremo come proprietà target, per questo lo sottolineiamo, e poi ovviamente il tipo, come dicevamo. Come facciamo ad agganciare un evento? Beh, ogni elemento ha la possibilità di agganciare un evento tramite questo metodo, addEventListener. Dobbiamo sapere il nome dell'evento, questi nomi, queste stringhe, sono specificate nello standard, o quantomeno sono abbastanza standardizzate, diciamo così. E poi passiamo ad una callback, ovviamente, che contiene il codice da eseguire in funzione di quello che vogliamo fare. Quindi, per esempio, va bene, questo è l'evento load di window, anche su window possiamo agganciare gli eventi, ovviamente saranno eventi un po' particolari, per esempio, si è caricato tutto. Quindi, vi dicevo prima, se noi avessimo messo lo script in un posto a caso nel codice HTML e volessimo aspettare che si è caricato tutto, come facciamo a sapere quando si è caricato tutto? Dobbiamo eseguire tutto quello che vogliamo fare, quindi tutto il contenuto dello script, dentro un handler agganciato al load del window. Ok? Questa è una possibilità. Va bene. Oppure, ci sono elementi particolari che agganciamo in qualsiasi maniera, per esempio con l'id, dicevamo prima, e a seconda dell'evento, noi andiamo a fare qualcosa. La cosa più semplice è farvi scrivere una cosa nella console così provata immediatamente. Ok, non vi faccio vedere l'esempio della console, tutte queste cose le potete provare direttamente nella console del browser, fate il get element ID come prima, ad event listener, cliccate e vi viene fuori, è una bella scrittina nella console se avete fatto il console log. Esiste un oggetto evento in javascript all'interno delle API del browser, che contiene fondamentalmente due proprietà importanti, poi ce ne saranno delle altre, però sono due quelle importanti. Uno è il target che abbiamo detto prima, che in realtà è la sorgente dell'evento, cioè l'elemento del DOM che ha creato l'evento, e uno è il tipo. No, quindi che tipo è l'evento, come clic, doppio clic e così via. Siamo pieni di eventi, quindi ovviamente il mouse è quello a cui siamo abituati di più, clic, doppio clic, mouse over, eccetera. La tastiera crea eventi, quindi, vabbè, pressione il tasto, rilascio del tasto e così via. L'interfaccia crea eventi, appunto, il load, lo scroll, come fanno nei siti a fare in modo che quando spostate qualcosa ci sia l'interfaccia che si aggiorna e questa pubblicità resta sempre lì. Ho trovato un sistema in CSS, oppure agganciano col javascript, il fatto che avete spostato e spostano l'elemento in giù della stessa quantità, così mi rimane sempre lì. E così via. I form che tratteremo poi a parte, diciamo, meglio nella seconda parte del corso, quando li gestiamo bene con React, generano eventi. Io cambio qualcosa nella casellina di un form e viene generato un evento, quindi posso reagire immediatamente al cambiamento di qualsiasi cosa in qualsiasi elemento di un form. Ho scritto un nuovo carattere, non c'è bisogno che prima invio, che faccia... Ho proprio solo cambiato qualcosa. Ho messo il focus, ho tolto il focus. E così via. Vabbè, poi ci sono altri tipi di eventi, diciamo, un po' meno interessanti per noi in questo momento. Molti eventi hanno un comportamento di default del browser. I più classici sono questi due. I link, se io ci clicco il browser mi carica il link. Giusto? È il comportamento di default. In un form, se faccio submit, quindi premo su un bottone submit, batto invio, di solito funziona anche l'invio e così via, i dati vengono inviati al server. Questo non è quello che vogliamo in un'applicazione web, single page application. Noi vogliamo gestire tutto noi. Per cui i comportamenti di default vanno bloccati. Come si fa? Nell'handler la prima cosa che scriviamo è event, che sarà il parametro che viene passato all'handler. Cioè, l'oggetto event, dal quale possiamo poi accedere al target, al tipo e alle varie informazioni che ci porta l'evento, ha un metodo prevent default che andrà sempre chiamato. In questi casi, diciamo, in cui abbiamo questi comportamenti di default, che fondamentalmente ci portano via dalla pagina. Noi non vogliamo andare via dalla pagina, ma se clicchiamo su un link andiamo a caricare un'altra pagina, quindi stiamo distruggendo la nostra applicazione web. Distruggendo nel senso di tutto il contenuto che ha nella memoria in quel momento, i dati e così via, perché carichiamo nuove pagina, tutto viene azzerato. Ok, va bene, il life cycle delle pagine, ci interessa, va bene, fino a un certo punto, nel senso, ci sono degli eventi come abbiamo visto prima, il load, no? Il browser ha finito di caricare tutto. Ok? Quindi ha senso cominciare ad andare a manipolare il DOM. In realtà c'è anche il DOM content loaded, ma in realtà è solo pronto l'albero del DOM, ma non è detto che tutto il resto sia stato caricato, quindi, che so, tutto il CSS caricato, applicato e così via. Perché? Perché ci va un attimo di tempo, come tra l'altro avete visto prima negli esempi. C'è anche l'unload non tanto affidabile, perché non è che tutti i browser lo implementano per bene, ci lo lasciano usare come vogliamo, che può essere utile per farvi comparire quegli avvisi, come dire, sei proprio sicuro di voler andare via, non hai salvato, eccetera. Queste cose si fanno, di nuovo, con degli eventi. Ok? Quindi, in realtà, gli eventi sono semplici, nel senso, ad event listener, devo sapere il nome dell'evento e poi scrivo la mia callback. E poi faccio funzionare tutto quanto di conseguenza. Quindi, sostanzialmente ho risolto, no? Poi è chiaro che ci sono, diciamo, delle condizioni più interessanti, nel senso che, tipicamente, su un testo scritto che dovete leggere, non è che c'è tanto da lavorare con gli eventi. Lo possiamo fare così per prova adesso, però il testo lo leggete. Se avete un elemento interattivo, invece, è più interessante lavorare con gli eventi. Avete la casellina di un form, dove si può scrivere, cancellare, editare, eccetera. È chiaro che lì è interessante lavorare con gli eventi, perché ogni volta che cambiate, vorrei saperlo, così io faccio funzionare l'applicazione di conseguenza. Un bottone, voglio sapere quando è stato premuto, se no, cosa serve il bottone se lo schiaccio e non succede niente. Quindi, è chiaro che gli elementi più interattivi sono quelli che mi interessano di più da gestire con gli eventi. Quindi, diciamo, gli elementi interattivi nelle applicazioni tradizionali web sono racchiusi in un form. In realtà, nelle nostre applicazioni single page application, siccome gestiamo tutto da JavaScript, questa cosa ci interessa fino a un certo punto, diciamo che più che altro dobbiamo fare attenzione a evitare che la pagina si comporti come un'applicazione di vecchio tipo. Quindi, se facciamo il submit del form, che parte il submit del form. Come abbiamo detto prima, prevent e fault. Ve lo dico perché, appunto, sul tag form c'è sempre presente l'attributo action, che è il nuovo url da caricare. E quindi c'è sempre il rischio di fare la sottomissione del form, se noi abbiamo un form all'interno della pagina. E quindi dovremmo sempre fare attenzione ad evitare che si verifichi questa operazione. Quindi, per esempio, nel codice JavaScript, andare a ganciare il form, che so, per esempio con l'id, getElementByD, userData, addEventListener, submit, event, preventEFault. Prima cosa da scrivere, perché altrimenti chiunque ci faccia il submit e il form ci fa fuori la nostra applicazione. Però il form ci serve, non è che possiamo farne a meno, perché appunto gli elementi di un form vivono dentro il form stesso. Quindi un'occhiata, direi ce la diamo così, molto rapidamente, e poi proviamo, quindi usiamo il resto del tempo per fare delle prove. Quindi, facciamo una carrellata rapida degli elementi del form, anche se un po' lo dovreste aver visti, perché facciamo parte di quelle letture dell'HTML, però la cosa è abbastanza rapida, e poi in laboratorio in realtà non si chiede di aggiungere, o di editare, quindi non ci servono per i laboratori, però ci serviranno sicuramente un po' più avanti, nel momento in cui andiamo a scrivere le applicazioni web, per poter appunto interagire, mettere dei dati, eccetera. Quindi, nel form possiamo avere una serie di tag, di tipo diverso, che ci aiutano ad interagire con l'utente, in particolare a prendere i dati di input. Infatti, quello che abbiamo già visto, diciamo un po' di nascosto, un po' da tutte le parti, è l'input, non abbiamo mai, diciamo, come dire, discusso nel dettaglio, ma in realtà la questione è abbastanza semplice, nel senso che, quasi tutti, gli elementi del form, che richiedono input, sono appunto di tipo input, cambia l'attributo tipo, ce ne sono veramente tanti, ok? Abbiamo necessità di dargli un nome, perché dobbiamo distinguere con un nome unico, ogni elemento del form, ok? Pensate, nome, cognome, indirizzo, eccetera, sono tutte caselle type text, perché è tutto testo, no? Però, se non gli diamo un nome, diventano difficili da gestire. In realtà potremmo, potremmo dargli un ID, però questo, come dire, rimane, rimane poi gestibile solamente da JavaScript, eh? Per carità è quello che facciamo, però, insomma, nel momento in cui noi diamo dei nomi, abbiamo delle facilitazioni, su come andiamo a gestire gli elementi del form, no? Perché abbiamo un particolare, proprietà di document, che sono tutti form contenuti nel documento, quindi se noi mettiamo il tag form, e poi mettiamo i vari input, con i vari name, eccetera, eccetera, ci ritroviamo tutto facilmente accessibile, senza neanche usare il get element by ID, eccetera, 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 questo perché, perché in realtà JavaScript è nato molto prima, non di adesso, dove facciamo le single page application, eccetera, e quindi si voleva un metodo semplice per accedere con JavaScript agli elementi di un form, perché JavaScript è nato per gestire un minimo di interazione con l'utente, con i form, poi adesso noi lo usiamo per fare tutto, però è nato per quello, quindi questo è il motivo per cui trovate questa possibilità, esistono tanti tipi di input, e alcuni disponibili sono in HTML5, ma diciamo che fondamentalmente potete usare tutto, perché oramai tutti i browser supportano ampiamente HTML5, no? Quindi, che so, caricare un colore, no? Pensate al pasticcio che sarebbe selezionare un colore, se non aveste un controllo apposta, che fa venire fuori qualcosa in cui il colore è facilmente selezionabile, per esempio, e così via. La data, no? Il famoso calendarietto, perché in realtà si può scrivere marea di codici JavaScript per farlo apparire, gestire e così via, useremmo comunque una libreria, no? Perché non è l'obiettivo di questo corso, però c'è un controllo apposta, bisognerà solo un attimo imparare come funziona, ci ritorna una stringa, non ci ritorna l'oggetto DayJS, perché DayJS è una cosa che abbiamo scelto noi, no? Bisogna un attimo vedere cosa ci dà, però una volta che sappiamo come funziona, cosa ci dà, saremo in grado di andarcela a gestire, e questo vale un po' per tutti i controlli. Va bene, radio button, range, submit, il bottone, va bene, tutto il resto, insomma, fondamentalmente ce li possiamo guardare, ecco, possono essere in diversi stati, per esempio read only, ogni tanto vi capita di vedere i fondi che ho ottenuto a read only, e l'html che dice che è read only, queste sono tutte proprietà di nuovo, manipolabili dal javascript, quindi nel momento in cui io decido che l'utente non deve più toccare una cosa, get element by id, oppure prendi nel form, x e l'elemento di nome, non lo so, indirizzo, read only, uguale true, fine, l'utente, nell'interfaccia non lo può più toccare, ok? vabbè, size, value, ecco, value è probabilmente quello che userete di più, perché vi va a recuperare il valore, nei campi dove è possibile input libero, e vabbè, anche nelle selezioni, eccetera, io non, la taglierei un po' corto su questo discorso, perché appunto, quando c'è bisogno, uno va un attimo a vedere, ci sono dei tipi un po' particolari, come vi dicevo prima, per esempio il file, potete caricare un file, ma poi, poi non è che lo caricate sul browser, dovete mandare al server, eccetera, quindi ci va il supporto al server, e così via, l'unica cosa è che sono controlli di tipo diverso, che comunque, in modo più o meno facile, potete gestire da javascript, certi non sono completamente gestibili da javascript, per esempio questo file, e, dobbiamo solo abituarci un attimo, a vedere come funziona la sintassi, vale la pena di conoscere questo label e for, perché? Perché, oggigiorno che si creano siti, che sono visti su dispositivi mobili, con uno schermo un po' più limitato, usare la label, ci consente di rendere, diciamo, lo spazio in cui si genera l'evento, cioè l'area, diciamo così, cliccabile, o comunque, selezionabile, un po' più grande, e quindi questo è il maggior vantaggio di questo, dell'uso della label, Cioè, anziché dover cliccare solo qui a destra, sulla casellina, cliccate su qualsiasi cosa collegata a questa casellina, con questo for id, quindi su una mettete l'id, e sul lato mettete il for, e diciamo, tutto corrisponde allo stesso oggetto, dal punto di vista dell'evento. Va bene, text area, lista, eccetera, io direi che queste cose, diciamo, quando ne avrete bisogno, andate un attimo a cercarle, fate prima, ed è meno noioso per tutti. Posso ecco dirvi, magari, solo, qual è la differenza tra, il tag button, e l'input type uguale button, che esiste, no? Qual è la differenza? La differenza è che se avete il tag, potete scriverci dentro. Se avete invece l'input type button, non prevede la possibilità di scrivere dentro il tag, quindi, per esempio, non potete mettere con l'input type button, un'immagine dentro al bottone, mentre col button, siccome dentro potete scriverci quello che volete, test, immagini, caricare quello che volete, potete rendere qualsiasi cosa un bottone. Ok? Questo, diciamo, è quasi però una curiosità. Css, abbiamo visto, usate Buster, usate una libreria che abbia dei default ragionevoli, no? Altrimenti vi ritrovate, ma non in questa condizione, ma in quella di prima, cioè, che ogni browser fa un po' come gli pare. Invece, una libreria css ha cercato di uniformare un po' l'aspetto. Appunto, quindi usiamo librerie quando necessario. se il controllo, cioè, che so, non ci piace come funziona la data, la selezione del colore, eccetera, non è che abbiamo tanta alternativa, andarci a cercare una libreria che ci implementi qualcosa che ci piace e funzioni bene. Funzioni come lo desideriamo noi. Ecco, vi faccio vedere quest'ultima linea, poi proviamo. Quindi, diciamo che noi nella nostra pagina abbiamo un form, quindi, document, query selector, form, abbiamo preso il primo form presente nella pagina, cioè il tag form, addEventListener, EventSubmit, Callback, Callback prende come parametro l'evento, che posso anche ignorare, però, qui mi serve. Vedete cosa si fa per prima cosa? Event, PreventFault. Ok? Quindi, questo è un esempio di come scrivere il codice per mettere quel PreventFault sul form che vi dicevo prima. Ok? Ma in realtà, adesso non guardiamo i form, qui abbiamo finito, ma andiamo a fare un po' di, come si dice, manipolazione del codice HTML sulla base di eventi che generiamo dentro la nostra pagina. Useremo principalmente il click perché è la cosa più semplice, però di per sé potete poi estendere tutto come desiderate. Quindi, prendiamo, prendiamo le exams, quindi, dovreste averla, chi di voi ha fatto pull, ce l'ha. Andiamo a caricarcelo, quindi, exams, ok, non prendo quello in cui il codice javascript mi crea la tabella, ma fa lo stesso, è solo una questione di comodità, nel senso, parto di qua perché così vediamo già l'HTML nel, nel Visual Studio, e c'è un attimo più immediato ragionare sull'HTML, però di per sé poi la rappresentazione della memoria per il browser è identica, quindi non ci cambia niente. Va bene, agganciamo un evento a che cosa? Alla tabella, per esempio, potremmo, non so, poi agganciamo il bottone, proviamo prima a agganciare qualcosa sulla tabella, quindi io clicco, tanto per farvi vedere che si può cliccare dovunque, non ho un form, non ho niente, prendo un elemento della mia tabella, per esempio, la riga, clicco su una riga, e non so, faccio qualcosa con questa riga, per esempio, non lo so, vado a recuperarmi il voto e me lo faccio comparire nella pagina, oppure comincio con un console log che è la cosa più semplice per iniziare e poi me lo faccio comparire da qualche parte, quindi mettiamo un po' insieme quello che abbiamo visto stamattina, prima. Allora, exams, prima di tutto carica il nostro codice, quindi c'è examscripts, ok, quindi c'era l'ora che girava, sì, possiamo lasciarli, non c'è nessun problema, ok, allora, recuperiamo il, dunque, la tabella, dobbiamo recuperare le varie righe, su ogni riga mettiamo un event handler, ok, oppure se vi piace di più cominciamo a mettere le event handler sulla tabella, fa lo stesso, comunque, numero uno, recuperiamo la tabella, quindi document, get, dunque, abbiamo un'unica tabella, però avevamo anche l'id nella tabella, vero? quindi, quindi, mi sembra, no, ce l'avevamo su score table, allora, lascio perdere, nel senso, posso anche fare get element by id e poi prendere il children, for child, che è la tabella, vedete voi, insomma, qui è una questione di come uno si organizza il codice, no? Facciamo il get, no, facciamo il query selector, così facciamo pratica che non abbiamo mai tanto fatto pratica col CSS, vabbè che questi selettori sono così semplici, table, table, in realtà, in realtà, volevo, dove? c'è table, posso, posso in realtà prendere tutti i tr, no? quindi, voglio tutte le righe, ok? quindi, query selector all, se no, mi prende solo il primo, ritornato sulle slide, vedete che query selector seleziona il primo che fa il match con quello che gli diciamo, e noi scriviamo, scriviamo così, eh, dovrebbe andare, table tr, table tr, ok? perché non scrivo solo tr? wow, mi piace così, abbiamo cambiato selettore, giusto per dire, prendiamo tutti i tr che sono sotto table, ok? se fosse il t-buddy, potremmo dire, lascia perdere il t-head che non ci interessa, prendiamo il t-buddy, ok? t-buddy qui non c'è, ma tanto per farvi vedere che i selettori sono anche abbastanza flessibili, eh? poi se vi dà fastidio prendiamo solo i tr e via, perché tanto c'è un'unica tabella, eh? ok, questa roba la devo mettere da qualche parte, metto in un costo, si può mettere un costo, rose, eh? ok? e poi for, vi ricordate ancora come si fa un for su un array, abbiamo detto non è proprio un array ma il for funziona, il for each funziona, eh? potremmo anche fare un for each, ma fa lo stesso, insomma, row, eh? non in, ma off, rows, ok? a questo punto facciamo row, cost, o costo let, insomma, mettiamo costo, abbiamo detto, row, ci sarà, ad event listener, no? è un, è un elemento, quindi deve esserci ad event listener, se non ve lo suggerisce il visual studio, è un problema il visual studio, eh? ricordate sempre di non farci estremo affidamento, un po' va bene, ma, allora, l'evento che mi interessa, ho detto, il click, ok? che si chiama click, l'abbiamo visto, spero, mi sembra di sì, vabbè, comunque, se no, mettete, event, eh, dom events, eh? vabbè, v3 school non è troppo al massimo, eh, diciamo, anche se non è sbagliato, eh, però, se, se prendete le mdn è un po' meglio, eh? comunque, va bene, sono per categoria, eh, forma, dunque, ci sarà il mouse, mouse, drag and drop, gesture, mouse, ok, quindi, ecco, click, double click, che non si scrive double, dovete solo andare a cercare, ma, questione un attimo, si trova tutto, poi, insomma, i più comuni, poi, callback, no, ad event listen, callback, event, freccia, cosa facciamo? iniziamo con la cosa più semplice, console log, eh, cosa stampiamo, volete, mettiamo cliccato, va bene, la stringa fissa, eh, ci verrà fuori cliccato, mettiamo qualcosa di un po' più furbo, eh, event, proviamo event target, ok, ricordate target, è, l'elemento che ha generato l'evento, ok, non è, si chiama così, avessero chiamato surse, era meglio, ma, ok, va bene, e adesso questo, e questo ci basta, nel senso che di per sé, se funziona, eh, eh, dovremmo già incominciare a vedere qualcosa, no, quindi, io adesso prendo una riga, della tabella, clicco, ecco, ecco, eccesso in tutto, vabbè, ma è il bello della, eh, della diretta, eh, prima di tutto verifichiamo, ecco, che si è caricato il file corretto, perché magari ogni tanto è anche, questo non ci sarà, sì, questo è il mio, ok, query select role, facciamo una prova, perché non mi incolla, aia, copy, ah, niente, ok, beh, query select, è giusto, no, sì, non ha ancora che, non l'ho ricaricata, il wifi non aiuta, in queste cose, se vi stufate, scaricate la libreria, la mettete locale, e così si carica più in fretta, proviamo un po', allora, query select, quindi a questo punto, ecco, grazie, bravi, molto attento, quindi, in realtà non c'era niente che non andava, ma come dicevo il vostro collega, eh, che poi ci serve, così adesso facciamo un piccolo aggiustamento, la pagina si stava ancora caricando, il risultato che, eh, c'era magari qualcosa non ancora impostato, e, eh, magari non era ancora stato finito, diciamo, correttamente il parsing del DOM, no scusa, il parsing del DOM, noi l'abbiamo caricato per il defer, doveva essere a posto, però allora, cosa poteva esserci? Boh, c'era qualcosa che non, non andava, sì, DGS, sì, ci ha bloccato probabilmente, il, l'esecuzione dello script, quindi, come facciamo ad aggiustare questo problema, no, perché, va bene, ok, ma lo scarico in locale, però, poi quando ho il server, non è che mi scarico in locale la roba, la roba sta sul server, dovevo gestire il problema, ok, abbiamo visto l'evento prima apposta, no, quindi, cosa avevamo visto? window, event listener, avevamo due eventi, no, il DOM content loaded, e load, io prenderei load, così stiamo tranquilli, eh, cioè, tutto è stato caricato, eh, anche perché, se poi, non ci basta il DOM, come se il problema era del, del DGS, virgola, eh, e poi, e poi che facciamo? boh, ma event, sì, in realtà, vabbè, potremmo anche farne meno di mettere, però, mettiamo, fa niente, tanto, quindi, tutto, dentro, un event listener, dunque, ok, indentiamo, cioè, questo è javascript, midiamo tutto, dentro tutto, no, eh, quindi, noi, facciamo le operazioni, qui sotto, solamente, quando, la pagina ha finito di caricarsi, ok, la pagina e tutte le sue risorse, eh, così, quello che è successo prima, non dovrebbe più capitarci, questa è una cosa abbastanza, comune, che si fa, perché, appunto, c'è sempre, c'è un pezzo che è rimasto indietro, per qualche motivo, e poi, i miei script, non funzionano, adesso, non era chiaramente una cosa così grave, però, diciamo, potrei mettere, anche tutto il resto, è dentro, quindi, di per sé, potrebbe anche aver senso, mettere il resto dentro, eh, lasciamo così per ora, eh, tanto appunto, come vi dicevo, noi, oggi, proviamo un po' così, e poi, tutto questo, non lo useremo mai, perché, se usiamo React, ci penserà React, a fare in modo, che il codice dell'applicazione, venga eseguito, quando la pagina si è caricata, e tutto quanto, se no, se non fa quello, tanto vale che scriviamo noi, codice, JavaScript, ok? Benissimo, quindi, andiamo a riprovare, quindi, riprova, ricaricare tutto, ok? Prova a cliccare, oh, stavolta, funziona, quindi, clicco sull'ultimo, apriamo l'ultimo, purtroppo, un po' scomodo da leggere, adesso, ci facciamo stampare qualcosa di più carino, eh, però, vediamo, è networking, quindi, RALTD relativo al networking, perché il primo figlio è il testo, networking, ok? Va bene, quindi, il click funziona, il click funziona, e ho fatto il console log corretto, ok? Potrei, ecco, vi faccio vedere che stampo RAW, ok? Perché? Perché ci facciamo una piccola riflessione sopra, quindi, ricarico, clicco la prima riga, quindi, questa sinistra, è l'event target, e questo è il RAW, ok? Che sono la stessa cosa, in realtà, eh, perché, no, scusate, uno il TR, perdon, è il RAW, ok? L'event target, io ho cliccato sull'elemento, ok? Se io clicco qua sul button, ok? Mi viene fuori il button, che è l'event target, e questa è la RAW, è la RAW giusta, eh, notate, web application 1, non so, io la apro da qualche parte, c'è scritto web application, sì, non è questa linea, racchettiva, non è il web application 1, com'è che fa ricordarsi il codice, che è la RAW giusta? Mi raccomando, all'esame, non cascate su una domanda così banale, oramai, eh, questa è una funzione, no, event, eccetera, ce l'ha salvata nello scope, si è fatta la closure su RAW, ok? È semplicemente la closure, il meccanismo della closure, noi definiamo l'event handle, in quel momento, ci sono delle variabili che si vedono, l'event handle funzionerà su quelle variabili che vede in quel momento, quindi, il primo event handle funzionerà sulla prima riga, il secondo sulla seconda, il terzo sulla terza, io scrivo sempre RAW, e si ricorda qual è il valore di RAW in quel momento, ok? È il meccanismo della closure che abbiamo visto all'inizio del corso, ok? Mentre event target, vabbè, event target è banale, me l'ha passato, è un parametro, è certo che sarà a posto, me l'ha messo a posto il browser, però io, negli event handle, posso fare quello che voglio, cioè, se c'è qualcosa che diventa poi non più visibile, no? Come alla fine del for, rimane visibile all'handle, che è una funzione, perché è una closure, ok? Mi raccomando, non perdiamoci su queste cose, che, appunto, non è magia nera, è solo il meccanismo della closure, ok? Allora, andiamo a modificare, cioè, andiamo a fare qualcosa, qualcosa di visibile, eh? Quindi, va bene la console log che ci diverte, però, prendiamoci, per esempio, il voto, e ce lo scriviamo da qualche parte nella pagina, così facciamo una piccola prova. Come facciamo? Andiamo a recuperarci il voto. Allora, abbiamo la row, la row, che è il tr, dobbiamo sempre avere in mente la struttura dell'HTML, il tr, a4td dentro, no? Andiamo a vedere la pagina, il tr, a4td, nome, voto, e così via, ok? andiamo a prendere i figli, questo è un esempio, possiamo, diciamo, fare, saranno tante strade alternative, però, per esempio, c'è la probabilità, children, eh? prendo children1, iniziano da 0, un array, eh? 0,1, 2,3, ci sono 4, quindi children1 è la seconda colonna, e poi come faccio a prendere il contenuto? Prendo, inner, l'abbiamo usato prima, inner text, come ci posso scrivere dentro, lo posso anche leggere, eh? Ok, voto, quindi, cost, voto, uguale, ok? Ho recuperato il voto, e adesso lo prendo, e lo metto da qualche parte, dove lo metto? Mettiamolo, io avevo preparato, ecco, rispetto al, anche a chiama l'altra volta, ho messo questo P, eh? Però non mi piace di nuovo P, metto div, ok? Non so più perché ho messo P, div, eh? Eh, div, mh? Perché dentro ci metto dei P, eh? Non scrivo del testo così, perché sennò viene uno dietro l'altro, potrei fare dentro inner text, ma poi non è che posso mettere backslash n, in HTML, non si va a capo così, si deve ragionare, sul layout del testo, sono paragrafi, se proprio volete c'è il tag BR, non è il massimo, però, insomma, eh, quindi, id comment, quindi ho messo apposta questo id, eh? o id, quello che volete, insomma, eh, quindi, a questo punto, document, get element by id, questo qui, comment, punto, facciamo, append, append, child, quindi, ve lo faccio tutto in una riga, giusto per farvi capire, no, che, possiamo fare tutti i pasticci che vogliamo, create element, e, ok, a questo punto, inner text, ah no, però poi mi va a fare un pasticce, no, facciamo, allora, dobbiamo fare l'elemento fuori, cost, p, uguale, create element inner text, quindi creiamo il p, poi p inner text, è il, vuoto, no, che numero che stringa, non importa, se è giusto a javascript, lo sapete, fa la conversione, ssr, tra l'altro qui sarà testo, perché, noi l'abbiamo scritto come testo, in html, e, quindi a questo punto, niente, ci facciamo, il, il, vediamo un po', se ho sbagliato qualcosa o no, eh, sì, ha ragione, è una stringa, se no, ci da undefined, no, ok, grazie, se risparmiamo tempo, eh, è bello debuggare, ma, fino a un certo punto, va bene, allora, clicchiamo, oh, funziona, eh, adesso io ho cliccato su web application, mi è venuto fuori 30, clicco sulla data di system programmi, mi viene fuori 28, clicco sul bottone X, di network, nell'ultima riga, mi viene fuori 30 load, ok, ma perché, posso cliccare dove mi pare, perché in realtà l'evento, eh, è sulla riga, ok, quindi, tutto l'ambito della riga, è agganciata, cioè, è agganciata l'evento clic, io clicco dovunque in quell'ambito di riga, e viene richiamato il mio event handler, ok, e qui faccio quello che voglio, come avete visto, ho recuperato l'informazione che desideravo, l'ho presa, e l'ho messa da un'altra parte, ho modificato il DOM, il DOM, immediatamente mi mostra quello che c'è da farmi vedere, quindi, eh, appunto qui, facciamo prima, selezioniamo, eh, quindi qui c'è il mio div, in cui io ho messo dentro i vari P, ok, se lasciavo il P, potevo metterci, ad acento HTML, va bene, insomma, questi sono dettagli, va bene, quindi, abbiamo agganciato un evento, abbiamo scritto l'handler, e a questo punto, fondamentalmente avete tutto quello che vi serve, no? eh, ok, eh, e intanto, intanto, il, eh, questo continua ad andare, no? perché intanto c'è la coda delle callback, il set interval ogni tanto ci mette dentro qualcosa da eseguire, il thread principale di JavaScript non ha niente da fare, perché? perché se, finché non clicchiamo non ha niente da fare, quando clicchiamo mette in coda l'handler, l'handler viene eseguito e fa l'operazione, ok? mi raccomando, ovviamente l'esempio è banale, ma l'importante è capire il funzionamento, eh, io adesso ricarico la pagina, questa roba qui a sinistra sparisce, perché? perché non c'è niente di permanente, qui partiamo sempre da zero nelle stesse condizioni, ok? se vogliamo qualcosa di permanente, come mi ha chiesto qualcuno in un intervallo, dove lo mettiamo? avremo bisogno del server, dobbiamo scrivere i dati sul server, i dati dove li prendiamo, li andremo a prendere come prima cosa, il caricamento dell'applicazione, del server e così via. in questo momento i dati dove stanno, i dati stanno direttamente nell'HTML, in questo momento, nel laboratorio dovrete prenderli dal codice JavaScript, ma li scriverete direttamente nel codice JavaScript, perché non abbiamo ancora il modo di parlare col server, ok? come abbiamo fatto nella prima parte di questa mattina, abbiamo scritto, li abbiamo scritti qui, stesso meccanismo, ok? benissimo, ok, andiamo ancora a fare, tanto se qualcuno ha dei dubbi, vuol fare prove a qualche idea differente, vi faccio vedere, visto che siete così gentili, che i bug li correggete voi al volo, il debug, perché ogni tanto può venirci comodo, non bisogna esagerare, ogni tanto, se uno si sforza un attimo sul codice, fa prima, perché debuggare non è così comodissimo, però si può fare, come abbiamo fatto prima, quindi nel nostro, ovviamente andiamo a debuggare il nostro, perché il resto non ci interessa, però se voi mettete un breakpoint, e si mette in Firefox, per esempio in questa maniera, la pagina gira di per sé, possiamo farla anche subito, noi clicchiamo, vedete che la pagina diventa, diventata grigia, azzurrina, non so neanche bene che il colore sia, è tutto bloccato, io non è che posso fare del resto, clicco ma non succede niente, perché come in un debugger, finché non vado avanti, tutto sta fermo, no? sono bloccato nell'event handler, che ha risposto al clic, ok? Prima di tutto devo chiedermi se il posto, dove devo stare, nel momento in cui ho fatto quell'azione, va bene, e poi ho la possibilità di andare a vedere, tutto quello che voglio, no? quindi voto e 30, in effetti io avevo cliccato sulla prima riga, row, vabbè, non sempre è comodo, però diciamo che, diciamo, ci sono, c'è la possibilità di ispezionare, come in un debugger qualsiasi, tutte le varie variabili, come abbiamo visto in Visual Studio Code, quando avevamo node, per esempio, giusto per farvi vedere cosa c'è in event, noi abbiamo visto target, tipo, però per esempio ci sono anche le coordinate, dove ho cliccato, c'era il control premuto, no? insomma, tante cose, che un domani potrebbero tornarvi utili, anche se abbiamo detto, va bene, poi facciamo con, con react, e poi, e poi vado avanti passo passo, quindi, piano piano, quello era il breakpoint, adesso su questa linea, il P, il P me l'ha creato, ci sarà dentro 30, c'è 30, adesso me lo appende, comparirà, ok? è comparso lassù, ok? e poi, e poi quando ho finito, do, vai avanti, e continua, ad andare avanti, senza più fermarti, perché tanto quello che volevo vedere, l'ho visto, cosa sta facendo adesso? è in attesa che qualcuno metta della roba, in coda, sulla coda delle callback, ok? non so se, no, non si vedeva prima, se non lo lasciamo andare avanti, è tutto bloccato, io prima ho fatto un secondo click, adesso è di nuovo bloccato, perché avevo fatto il secondo click, e stava in coda, vi vorrei far vedere, sembra un'idiozia, no? ma l'ora, è ferma, eh? ok? perché? perché, se ho bloccato tutto, è bloccata anche la coda, delle callback, e l'asset interval, me l'ha messa in coda, ma poi, fin da non sblocco, eh? tra l'altro si staranno, eh, beh, non so se si stanno accumulando, forse no, e poi, e poi riprende dal punto corretto, perché? perché non è che fa più, no? semplicemente chiede l'ora, e allora è sempre corretto, e a quel punto si sblocca, ricordatevi solo di tirarli via, e in breakpoint, perché poi, dunque, dove è andato? ok, boh, adesso, clicco, eh, e va tutto bene, facciamo funzionare, visto che, insomma, come sempre il tempo un po' tiranno, ma ci stiamo dentro, facciamo funzionare il bottone, X, eh? tanto per fare una prova, dovrebbe essere poi una parte opzionale, nel laboratorio, noi, adesso stiamo lavorando, direttamente sul DOM, ok? quindi io, per far funzionare il bottone X, cosa faccio? prendo, e tolgo, dei nodi dal DOM, ok? proprio li cancello, c'è la remove, mi sembra, adesso non mi ricordo, vado a vedere, eh, remove element, boh, li tolgo, e via, no? dovete sempre ragionare voi, su cosa ha senso fare, in laboratorio avrete la struttura dati, come vedevamo prima, no? da filtrare, ci saranno da implementare dei filtri, no? che so, film con la massima valutazione, film visti negli ultimi 30 giorni, non lo so più cosa hanno messo, eh, quindi, dovete ragionare, su come volete lavorare, e anche noi, anche se però, qui, l'esempio è banale, per cui, più che lavorare sul DOM, non possiamo noi, in laboratorio, siccome partite dalla struttura dati, dovete ragionare, se volete poi filtrare, creando una nuova struttura dati, buttare via tutto, e ricreare il DOM, con la nuova struttura dati, oppure, volete, eh, prendere, cancellare direttamente nel DOM, o aggiungere nel DOM, perché poi, quando cambiate filtro, le cose possono sparire, ma anche apparire, no? E così, cominciamo a renderci conto, della prima complicazione vera, che ci viene, nel programmare direttamente in JavaScript, nel browser, cioè, il problema, è che, noi abbiamo, dei dati, nella, come dire, nella memoria di JavaScript, no? Nello spazio, delle variabili, che ci mettono a disposizione di JavaScript, array, oggetti, e così via, che dobbiamo poi mappare, in qualche maniera, sulla visualizzazione, no? Questo è un po' comune, come problema, a tutte le applicazioni, con un'interfaccia, Cioè, c'è la struttura dati in memoria, e c'è quello che stiamo visualizzando. I vari framework, che, diciamo, ci aiutano in questo, di fatto, ci aiutano in queste operazioni, no? Perché? perché questa è la cosa complicata, tenere aggiornato, quello che abbiamo, nelle strutture dati, con quello che, viene visualizzato, con i dati che, l'utente, in qualche maniera, fa entrare nell'applicazione, ok? Adesso ci rendiamo conto del problema, perché? Perché abbiamo dovuto fare la prima scelta, cosa facciamo? Prendiamo la lista, exam list, andiamo a cancellarlo lì dentro, e poi ricreiamo tutto, oppure andiamo solo a cancellarlo nel DOM? Cioè, qual è la sorgente di verità dei dati? È la struttura dati che ho nella memoria, o è il DOM? Sicuramente il DOM non è tanto appropriato, per mille motivi, no? Perché il DOM, alla fine, è un insieme di oggetti, che sono fatti a modo loro, nel senso, sono questi node, e così via, con le loro proprietà, e poi, è vero che li posso tenere nella memoria, senza visualizzarli, però, diventa comunque la gestione un po' difficile, no? Quindi, in laboratorio, proverete, a partire sempre dalla struttura dati, che è la scelta più ragionevole, e a riaggiornare la visualizzazione, sulla base della struttura dati, cioè fondamentalmente, se vi fate una funzione, in cui, voi passate, non è l'exam list, ma cos'è, la movie list, che volete visualizzare, quella la prende, cancella quello che c'è, e rivisualizza, quello che gli passate, ok? E così fate funzionare, tutto quello che volete, filtri, come vi pare, e così via. Tenete solo, i dati originali, perché non abbiamo un server, a cui chiedere, e quindi ci sarà, una lista, di tutti i film, e una lista dei film, da visualizzare correntemente. è chiaro che nel momento in cui, l'operazione è semplice, come sarà anche il laboratorio, che facoltativo, implementiamo la cancellazione, cancellare non è che ci va una scienza, cancellare dall'astruttura dati, cancellare dal DOM, insomma, è facile buttare via le cose. la complicazione è nel momento in cui aggiungete, no? Che però non vediamo, per limiti di tempo, direttamente in JavaScript, ma vedremo più avanti, poi fatta direttamente in React. Quindi, quando aggiungete, aggiungo nel DOM, o aggiungo nella struttura dati? E da tutte e due le parti, devo aggiungere, se mi tengo la struttura dati e non è allineata al DOM, che cosa me la tengo a fare? Allora, vuol dire che i dati li sto tenendo nel DOM, e quindi ci sono tutti questi problemi, su cui vi invito a riflettere, ok? E che cominceremo a sviscerare, dalla prossima settimana, ragionando, con i framework, quindi ragionando, sull'approccio, real, ma in generale, su un problema che hanno tutti i framework per la programmazione web. fatto tutto questo discorso, andiamo a provare a implementare questa cancellazione. Quindi, la cancellazione, dicevo, è semplice, l'abbiamo messo a punto come esempio adesso, proprio perché, diciamo, basta lavorare sul DOM. Si tratta solo di scrivere in maniera corretta. Allora, andiamo a, facciamo così, vi faccio il commit adesso, così vi resta la storia, e poi, come ultima cosa, facciamo, dove mi è sparito? Che pasticcio ho combinato, forse, ah, ecco, vabbè. Allora, quindi, esempio, click, riga, push. bene, proviamo, con la cancellazione. Io, faccio un ulteriore file, ma più che altro perché, la storia va bene nel git, ma, è un po' scomoda, se uno vede direttamente il file, visto che facciamo quattro cose, quindi, in exams, allora, io adesso carico, examscripts, delete, ho duplicato semplicemente il file, e vediamo solo che funzioni tutto, se sai, quindi qui continua a funzionare, come faccio? il bottone, cosa succede nel momento in cui, clicco il bottone, di nuovo, devo agganciare un handler, al clic del bottone, no? Allora, per prima cosa, devo recuperarmi il bottone, secondo, add event listener, clic, e nell'evento, devo fare in modo, che tutto quanto sparisca, ok? Allora, proviamo a farlo qui, e poi vediamo anche cosa succede, quindi lo aggiustiamo, non funzionerà perfettamente all'inizio, ma, perché c'è un piccolo problema, ma lo aggiustiamo, quindi, io sono nella riga, no? Allora, siete concordati tutti, che facciamo un handler, per ciascuna riga, ok? Perché, perché c'è un bottone per ogni riga, quindi, ogni bottone deve avere, un handler collegato, Perché se no, se l'attacco solo al primo, funziona solo al primo, benissimo, quindi, però, prima di tutto, recuperare il bottone, eh? Qui, reselector, io, così, fate come volete, nel senso che, possiamo, potete fare come volete, get element by name, va anche bene, ma tanto per fare un po' di pratica, facciamo un po' di variazioni, eh? Quindi, tutti i bottoni, io li ho fatti i bootstrap, quindi hanno la classe btn, Quindi, quindi, reselector, metto punto btn, così, proviamo a fare il selettore di classe, eh? Va bene, questo è il bottone, eh? Aggiungiamo un event listen, tanto si può fare direttamente, no? Add, se non ho sbagliato, allora, click, event, freccia, eh, eh, praticamente si usa sempre la freccia, negli event handler, potete anche usare la function, se non usate il dis, va bene, eh, poi, per la prossima settimana, diamo poi una piccola lettura, sul dis, che mi spiega, una questione, eh, però, non sempre, cioè, quasi mai abbiamo bisogno del dis, per cui, diciamo, però la freccia, lo sapete, è comoda, per scrivere le funzioni, quindi va bene, va bene così, allora, adesso sono, nell'evento, ho cliccato il bottone, no? Quindi l'event target è il button, ok? eh, però, come prima, ho a disposizione la riga, no? Io cosa devo fare? Prendere la riga, cancello tutti gli elementi della riga, e poi cancello la riga, ok? Fra l'altro, se faccio così, se andate un po' a cercare, se non sbaglio, mentre cancello un elemento, con le sue funzioni proprie, se ci sono degli event listener attaccati, vengono scollegati, eh? Quindi non devo fare il remove event listener, quindi, sul bottone, in realtà, dovrei fare il remove event listener, ma, per una questione solo di, leak di memoria, eh? Perché tanto, nel momento in cui l'oggetto non esiste più, non è più cliccabile, per cui, quell'event handler era lì, ma non farà più niente, perché, nessuno può generare un evento, che lo richiami, va bene, allora, prendiamo la row, la row, allora, se non sapete da che parte iniziare, eh? Fate delete, eh, children, js, dom, eh? qualcosa così, adesso se la rete ci assiste, non sembra, eh? dobbiamo spicciarsi un po', eh? ci sono i vari stack cover, eccetera, se trovate, ieri mi veniva fuori, quello del, MDN, va bene, comunque, andate a dare un'occhiata, eh? forse, javascript tutorial, è un po' migliore, comunque, non sapete da che parte iniziare, boh, while, while, first child, remove child, eh? per esempio, se no provate, eh, quindi, allora, facciamo, while, row, first child, row, dunque, cosa vera, remove child, row, first child, cioè, cosa vuol dire? ciclo, su tutti i figli di row, quindi i vari tag td, finché sono, eh, non falsi, cetruzzi, cioè, non sono un riferimento null, no? se non ha, se non ha niente, come figlio, mi verrà fuori null, eh, e, e si interrompe il while, no? e faccio remove child, di che cosa? the first child, via, ok, quindi, eh, e poi, eh, e poi, devo rimuovere la riga, eh, quindi posso fare, const parent, uguale, row parent, eh, ok, e poi parent, remove child, per, eh, row, row e basta, no? ok? sì, 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 volendosi, cross, va bene, sì, sì, si rimuove l'intera riga, dalla lista di righe, sì, l'unica cosa, che bisognerebbe verificare, che fine fanno i vari elementi, nel momento in cui non li distruggo, può darsi che il dom sia furbo e, diciamo, ce li cancelli, eh, perché alla fine, però, però non lo so se il dom è così furbo, bisogna un po' andare a cercare, perché se io avessi agganciato con un figlio, da qualche parte, con un riferimento, poi se il dom me lo distrugge, e non sa che c'è questo riferimento, cioè, io poi cosa ne faccio i quei riferimenti, c'è qualcuno che sotto il naso me l'ha, me l'ha distrutto, no? e, quindi, così a naso, non lo so, non vorrei dire una cavolata, bisognerebbe cercare, però così a naso direi che, secondo me, gli rilascia, a meno che, magari c'è qualche opzione, che gli dice, di esplicitamente rimuovere i figli, perché appunto, c'è questa questione di riferimenti in giro, se fossero oggetti, di javascript, e basta, semplicemente, ci penserebbe javascript, no? io quando cancello, un riferimento a qualcosa, se non ho più i riferimenti, interni, che so, dell'oggetto che ho cancellato, prima o poi il garbage collector, e li tira via, ok? nel dom, non lo so, bisogna un attimo fare attenzione, ok? comunque, diciamo che, in qualche maniera, abbiamo eliminato, questi elementi dal dom, vediamo se, effettivamente funziona, quindi, dov'è? perché poi, è bello cianciare, però, il tempo scorre, no? allora, perché? con solo, prima di tutto, ecco, perché non va? bisogna fare un attimo attenzione, perché? questo mi è successo, ieri, mentre lo provavo, eh? perché in realtà, nelle righe, è inclusa, eh? è inclusa anche la prima, eh? quindi, qui di selector, ho il table tr, eh? vi do giù la risposta, perché ci, abbiamo poco tempo, no? e nella prima, non c'è un button, eh? e quindi, mi è uscito un null, e questa è l'importanza, di vedere la console, mi è venuto fuori un null, e, e quindi, non, cioè, poi non posso farci ad event list, ovviamente, no? e tutte queste operazioni, no? e quindi, cosa faccio? dunque, qui 2713, andate a vedere, dove sta? 27, no? cioè, io qui, fondamentalmente, facevo il button, ma sulla prima riga, il button non c'è, eh? quindi, allora, facciamo, facciamo così, mettiamo tutto in un if, per farla breve, eh? if, eh, non so, questa è un'opzione, poi magari appunto, qualcuno di voi se ne esce, con qualcosa di più breve, più furbo, eccetera, eh, io ho fatto così, eh, first, eh, element child, tag name, to lowercase, lowercase, diverso, da, th, eh, perché era un table header, per nostra fortuna, quindi, andiamo a vedere, dobbiamo trovare una maniera di distinguere la prima riga, potevamo mettere un contatore if, uguale a zero, bon, ok? però mi piace meno, perché non siamo legati all'html, no? nel momento in cui tornissimo il table header, ok? e allora facciamo questo, quindi avete visto, bisogna fare un attimo attenzione, perché se il codice javascript si pianta, cosa che vediamo dalla console, eh, poi non funziona, ovviamente, eh, quindi, eh, no, qui ho cliccato male io, ok, bene, allora, facciamo la prova, bottone, oh, è sparito, ok? rose remove child, is not a function, ah, io, questo, mi sa che, allora, era, qualcosa che, eh, ci siamo scordati, eh, quindi, rose remove child, mi sa che, rose, rose era un array, quindi, quello che vi aveva, che ci aveva suggerito il nostro collega, eh, non funziona, nel senso che è un array, eh, e quindi non ha il metodo remove child, eh, purtroppo no, ma tanto questa roba e la vediamo oggi, e, e non la rivediamo più, cioè, la vedete in laboratorio, però, eh, notate, torna tutto, perché i dati sono quelli al caricamento, click, ho sbagliato, parent, scusate, allora, facciamolo funzionare, ho caricato, parent, la fretta e cattiva consigliera, parent, cosa c'è che non va, parent node, bisogna fare solo un attimo attenzione a queste cose, eh, ma, troppo appunto, la fretta, ok, va bene, è sparito, adesso c'è ancora, raw children 1, che però, non so più cosa sia, ah, sì, ecco, l'ultima cosa, poi chiudiamo, eh, anche perché, forse ci aspetta già fuori dalla porta, occhio che avete, due, event listeners, sul click, su oggetti, uno dentro l'altro, e quindi, questo crea un po', un pasticcio, nel senso che, quale viene scatenato, cioè, io ho fatto click sul bottone, ma il bottone è dentro la riga, quindi parte sia il event listener del bottone, sia il event listener della riga, ok, che ovviamente non trova più il children, perché glielo ho cancellato sotto il naso, e allora si arrabbia, e mi si incrica l'esecuzione di javascript, quindi, eh, dovete, eh, fare attenzione, eh, facciamo così, perché la soluzione è più breve, e anche quest'ora non possiamo fare diversamente, quindi un pezzo ce lo mangiamo, eh, e adesso funziona tutto finalmente senza errore, eh, eh, quindi, occhio, che i listener vanno bene, ma dobbiamo fare attenzione a non, eh, diciamo, a non farli andare in conflitto, e ci sarebbe tanto da dire sugli eventi, come vengono gestiti, eccetera, ma visto che poi tanto deleghiamo abbastanza a React, eh, questo è il massimo che vediamo per oggi, e vi serve al massimo per il laboratorio, c'è tutto quello che vi serve, eh, ok, terminiamo qua, ci scusiamo col corso successivo, in laboratorio giovedì,